Naturalmente sì. Ma si aspettava magari le femmine un spettacolino? Come? Si aspettava le femmine un spettacolino prima del voto? Io sono venuto qui sempre perché qui venivo per tanti anni con la mia mamina e allora sono sentimentale. Ma vi ho visto che non era registrato però per votare? Non ho capito. Vi ho visto che non era registrato per votare? No, perché un candidato può scegliere dove andare a votare e io quindi ho scelto il ricordo. Non c'è sempre tante donne ad accogliere. Come? Non c'è sempre tante donne ad accogliere. Beh, le donne in Italia sono la maggioranza e quindi è logico che sia così. Poi purtroppo c'è un'altra cosa che questo non c'entra però di domenica, stavo dicendo una cosa che non c'entrava. No, ce la dica!